La musica è specchio della società che l'ha generata. Le società primitive fanno un vasto uso di strumenti musicali percussivi. Il ritmo è l'elemento che contrastingue questo tipo di società primitive. Più la società si evolve, più la musica diventa complessa e utilizza strumenti più complicati. Adesso utilizziamo strumenti musicali nati dal computer, sintetizzatori, campionatori, sequencers, computer, strumenti nati da queste nuove tecnologie. La musica è frutto della società che l'ha generata. Ciao, al prossimo video, vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!